Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione, fabbricando scuole, subaffalte, corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case, popolari, biservizi secondo il piano, regolatore, fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciature nazionali e ti guadagni la vita e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando case, ospedali, casermoni, fabbricando case, si si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire, ai tuoi figli con amore, fabbricando case, col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e pesciature nazionali e pesciature nazionali e ti guadagni l'aldirà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Grazie 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 Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione Fabbricando scuole, subaffalte, corruzione, bustarelle da un milione Fabbricando case, popolari, biservizi, secondo il piano regolatore Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore Ci si sente vuoti dentro il cuore Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare Spendi però per assistenziali e pesciature nazionali E ti guadagni dall'irà E puoi morire in odore di santità Fabbricando case Fabbricando case Ospedali, casermoni e monasteri Fabbricando case Ci si sente più veloci e più leggeri Fabbricando case Assicuri un avvenire Ai tuoi figli con amore Fabbricando case Col sorriso e col buon umore Col sorriso e col buon umore Ma dopo vai dal confessore E ti fa esorcizzare Spendi però per assistenziali E pesciature nazionali E ti guadagni dall'irà Puoi morire in odore di santità Fabbricando case Fabbricando case Come over Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ospedali, casermoni e monasteri fabbricando case.